Buonasera a tutti, ben ritrovati sul canale. Questa sera facciamo una lettura che andrà a trattare l'argomento se siete sulla strada giusta e sul percorso giusto oppure no. Quindi se siete nel posto giusto, anche proprio se parliamo di lavoro o relazione o luogo in cui abitate in generale, andremo a vedere se effettivamente siete nel posto giusto, state facendo le cose giuste oppure no. Come variante ho preparato due raccoli e poi andremo a chiedere con eventuali altri tarocchi e abbiamo queste due pietre. Per la variante numero 1 ho un quarzo rosa a goccia e per la variante numero 2 invece abbiamo un ametista. Come sempre vi consiglio di farvi guidare dall'intuizione per prendere questa scelta e potete anche mettere in pausa il video e osservare bene le due varianti. Dopodiché selezionate quella che più vi interessa. Potrebbe essere che anche entrambe vi diano più messaggi. In questo caso credo che il messaggio sarà specifico, quindi magari è meglio sceglierne una, però comunque nessuno vi vieta di sceglierne più di una. Quindi direi di partire subito. Vi ricordo che ci sono anche su Instagram e che trovate il mio link sotto nell'info box. E poi vi ricordo anche che potete trovarmi in tantissimi altri video che ho creato sul canale, quindi se volete ascoltare altre letture potete andare indietro e ascoltare anche quelle precedenti. Sono tutte letture senza tempo, quindi dal momento in cui le aprite sono sempre valide. Detto questo partiamo subito con la lettura numero 1. Ciao variante 1, tu hai scelto questo quarzo rosa a forma di goccia. Lo mettiamo qui e andiamo a vedere che cosa deve dirti innanzitutto la carta dell'oracolo. Questo oracolo dice Needing direction, lost in space. Da quello che vedo potresti avere una confusione non da poco riguardo alla tua situazione. Qua forse hai un momento in cui ti stai chiedendo, stai avendo un momento in cui ti stai chiedendo se effettivamente il posto in cui ti trovi o il lavoro che stai facendo o la relazione che hai iniziato sono quella cosa che fa per te oppure no. Quindi in quel caso vorresti solamente capirci qualcosa di più. Vedo che il problema è questo, che forse non hai compreso cosa veramente tu, cosa veramente ti fa stare bene. Quindi andiamo a vedere con questo mazzo di tarocchi per capire se, vediamo se abbiamo insomma una risposta. Anzi scusami, mi chiama un altro mazzo, quindi prenderò quello. Affidiamoci agli spiriti e a quello che ci dicono loro di fare. Questo è il mazzo che mi ha chiamato per te. Quindi vediamo un po' che cosa devono dirci di questa situazione, variante numero 1. Che cosa dobbiamo ascoltare per la variante numero 1? Abbiamo la carta del 5 di coppe, che sta al contrario. Il fante di bastoni. Cos'altro abbiamo per la variante numero 1? Abbiamo il 3 di bastoni. Cos'altro abbiamo, variante 1? il 2 di coppe ok queste carte mi chiarificano proprio il fatto che se ad esempio hai lasciato qualcosa o stai per lasciare qualcosa indietro per recarti verso qualcosa di nuovo o molti di voi l'hanno già fatto molti di voi stanno chiedendo in realtà per un qualcosa che avete già fatto quindi avete già creato un cambiamento nella vostra vita avete già cambiato lavoro, cambiato partner, cambiato situazione, luogo avete già fatto questo ditemi poi nei commenti se è così o meno però l'energia è quella già di successo che si è successo ma ecco potreste aver fatto una cosa che però non avete mai capito se fosse la cosa giusta magari avete lasciato il lavoro o il partner appunto ripeto ma perché sentivate dentro di voi il doverlo fare ma non avete mai capito se effettivamente possiate avere fatto la cosa giusta o meno allora queste carte vi vogliono dire che la vostra scelta e il vostro gesto è stato impulsivo proprio perché forse non c'erano altri modi per fare quella cosa e vi siete un po' affidati al vostro intuito alla cieca, proprio a naso e quello che vedo è che in realtà non avete lasciato indietro nessuna opportunità quindi questa cosa che voi avete lasciato potrebbe adesso farvi sentire come se aveste sbagliato magari soltanto perché avendo preso questa decisione molto di impulso senza aver ponderato bene senza avere, non lo so, stilato pro e contro essere veramente arrivati a essere convinti di prendere quella decisione prima di fare il passo o di prendere proprio la scelta di fare l'azione di lasciare quel posto, quel luogo di lavoro, quella persona eccetera quella relazione allora visto che avete fatto tutto così di impulso è come se non avesse avuto il tempo di elaborare semplicemente ciò che è successo però io vedo che in realtà qui non avete lasciato niente indietro magari per alcuni non si era in realtà esaurita ancora la carica di aspettativa che c'era verso quella persona, lavoro o qualunque cosa sia e questo è il caso in cui magari avete nostalgia a volte perché è stato brusco questo allontanamento da quello che mi arriva qua però questo non significa che non sia stato necessario infatti qua abbiamo il 3 di bastoni con il 2 di coppe che sono due carte molto molto belle che mi parlano della situazione corrente o comunque situazione futura eccetera la situazione che voi avete scelto di sostituire a quella precedente potrebbe anche essere semplicemente se per esempio eravate in un matrimonio o in una relazione il fatto di essere single oppure di incominciare una vita da un'altra parte se non vi piaceva il luogo in cui eravate o di magari iniziare un altro lavoro se quello in cui stavate non vi apparteneva però non avete ancora capito veramente dove vi sta portando questa strada il 3 di bastoni con il 2 di coppe mi dicono che in realtà questa scelta vi porta innanzitutto verso il vostro centro quindi non vi porta più a estremizzare dei vostri due estremi che potrebbero essere positivo, negativo, luce, ombra ma vi porta nella via di mezzo quindi vi porta nell'equilibrio vi porta ad abbracciare l'equilibrio quindi questo era necessario forse perché aveste la possibilità di trovare un equilibrio maggiore nella vostra vita e nelle vostre scelte il 2 di coppe inoltre mi mostra che questa è stata una scelta fatta per amore o comunque per alcuni potreste esservi direttamente innamorati di un'altra persona non avere lasciato il partner vecchio vecchio non che sia vecchio ma il partner precedente altri invece potrebbero aver creduto pensato che magari per trovare l'amore dovevano uscire da quella relazione magari restare soli per un po' di tempo ecco questa è una conferma anche se si tratta di lavoro in generale magari questo è un lavoro nel quale potete conoscere persone che sono più vicine a voi e infatti io vedo questa carta del 2 di coppe che non parla soltanto di amore in senso romantico ma parla proprio di trovare un senso di appartenenza con delle persone che sono più affini a voi quindi siete praticamente traslati in un'energia più affine a quello che siete e questo è quello che in realtà è successo forse visto che questa scelta o questo cambiamento è stato molto repentino ripeto con questo fante di bastoni è stato molto impulsivo forse avete veramente agito solo di intuito di istinto sapevate che dovevate andare lì o fare quella cosa lì o fare quel cambiamento o lasciare quell'altra situazione ma non capivate perché molti di voi non capivano perché mi arriva anche un'altra cosa alcuni di voi potrebbero in realtà non essere stati poi così male in quell'altra situazione però l'universo in qualche modo vi ha spinto qualcosa di meglio da abbracciare però non sempre comprendiamo che quello che ci arriva può essere migliore di quello che già abbiamo quindi non è sempre così però in certi casi sì nel senso che quello che l'universo vi ha portato o l'idea che vi ha fatto venire quindi di saltare di andare via da lì da qualsiasi cosa fosse per alcuni è stato dato da un disagio ma per altri non è stato dato proprio solo da un disagio magari ripeto stavate bene con quella persona con quella relazione al lavoro però non era in realtà sapevate dentro di voi in qualche cassetto dentro la vostra anima che non era veramente ciò che voi volevate per la vostra vita e quindi è arrivata un'altra opportunità o avete agito in modo da creare un'altra opportunità che può essere migliore però adesso forse tra l'altro non si è ancora materializzato bene il tutto perché potrei potrei anche dirvi che in queste carte mi dicono siete sulla strada per materializzare questa cosa per altri invece sì l'avete già materializzata quindi questo 2 di coppe è sia riferito a un qualcosa che già avete sia riferito a qualcosa che state attirando come energia in generale io vedo che il vostro 6 superiore fondamentalmente ha agito perché sapeva che quello a cui stava andando incontro sarebbe stato migliore di quello che c'era prima non voglio dire di gran lunga migliore perché già prima secondo me c'erano dei buoni propositi c'erano delle belle energie però non così tanto come questo 2 di coppe e questo 3 di bastoni il 3 di bastoni mi parla proprio di una via di mezzo un equilibrio la vostra via e soprattutto mi ricorda la via del perdono la via dell'amore incondizionato e il 2 di coppe me lo conferma quindi voi avete imbroccato la strada dell'amore incondizionato andando via di lì verso voi stessi prima di tutto e anche accettando che una parte di voi potesse non essere contenta questo è proprio l'esempio che potrei farvi nel quale magari avevate un lavoro fisso a tempo indeterminato che tutti magari vorrebbero però voi dentro di voi non stavate bene e quindi paradossalmente molte persone vi direbbero ma cosa hai fatto hai lasciato un posto sicuro te ne sei andato ma voi avete validato quella parte di voi che non stava bene perché non è detto che ciò che per gli altri possa essere bello per voi lo fosse allo stesso modo quindi avete validato quella parte di voi che voleva di più e non sempre volere di più è qualcosa di male e purtroppo ci inculcano questa cosa da piccoli che verbo voglio non cresce neanche nel giardino del re che se vi ricordate di questa frase lasciatemelo nei commenti se vi va oppure che chi troppo vuole nulla stringe tutti questi proverbi è un po' cioè lasciano un po' il tempo che trovano anche queste cose comunque si rifanno a un'età che adesso possiamo avere anche superato possiamo dire quindi un'età in cui c'era lo scopo di trovare una solidità e basta anche se questa solidità non andava poi a soddisfare i desideri o far sentire la persona bene nei panni che deve vivere ogni giorno però in realtà la vostra anima voleva di più la vostra anima sempre ha richiesto di più quindi vi ha messo davanti a questo cambiamento per farvi comprendere che cosa effettivamente è la gioia per voi vediamo di avere adesso un oracolo per voi degli angeli allora che cosa dobbiamo sentire per le persone della variante numero uno che cosa dobbiamo sentire per le persone della variante numero uno abbiamo un oracolo ok è caduto infatti abbiamo la carta di abbondanza voi siete stati messi su un percorso che vi porta necessariamente verso l'abbondanza c'è qualcosa che vi sta aspettando che sempre se non è già arrivato perché per alcuni di voi si è già manifestato addirittura però voi avete letteralmente remato verso l'abbondanza quindi sappiate che siete sulla strada giusta siete sulla strada dell'abbondanza e anche se non vi sembra così gli spiriti vogliono dirvi questo questo è proprio il caso in cui magari avete lasciato un rapporto ecco proprio questa cosa potrebbe risuonare per molti avete lasciato un rapporto con una persona con la quale stavate bene con la quale vi sentivate bene confortevoli c'era tanta bellezza in quel rapporto però ripeto voi sentivate che non era la persona giusta per voi che non sareste stati insieme a quella persona per tutta la vita quindi forse non avete lasciato il tempo al rapporto di consumarsi fino a terminare e a dire ok adesso forse è il caso che chiudiamo questa relazione siete andati via prima perché il vostro intuito vi diceva già che quello non era il rapporto per la vostra vita e avete fatto bene vi vuole dire l'universo che avete fatto bene perché avreste semplicemente perso tempo voi e tra l'altro l'avrebbe perso anche l'altra persona quindi se è una persona che avete lasciato credo che gli vogliate ancora bene e che questa persona voglia bene a voi sapete che avete fatto una cosa buona sia per voi che per l'altra persona il problema forse è che non avete ancora visto per alcuni arrivare qualcos'altro quindi potreste dirvi ma cosa l'ho lasciato a fare quel rapporto se poi effettivamente non arriva ciò che io spero bene siete nell'energia che attira l'abbondanza per altri invece questa cosa ripeto si è già manifestata vediamo adesso di avere dei tarocchi per voi variante 1 infatti abbiamo la carta di reunion e poi vediamo che altre carte dei tarocchi abbiamo per voi variante numero 2 abbiamo la carta di respect ok allora perché abbiamo la carta di reunion per la parte di partenza della variante numero come va abbiamo la carta di reunion la carta di reunion prima abbiamo la carta di reunion abbiamo la carta di reunion abbiamo il 2 di denari al contrario e poi l'8 di denari poi per l'altra parte per l'altra parte invece perché abbiamo la carta di respect e abbiamo il 6 di spade e il matto ok allora quello che vedo qua è che probabilmente nella situazione precedente ci poteva essere stata un'energia di ciclo come se qualcosa si continuasse sempre a ripetere e questo potrebbe essere successo con partner con lavori che magari non vi facevano sentire bene in generale io vedo un'energia che si continua a ripetere che alla fine non vi portava mai da nessuna parte voi potreste esservi sentiti letteralmente così come se non andaste mai da nessuna parte come se non riusciste mai a sentirvi veramente appagati come se ci fosse qualcosa di inerentemente sbagliato in ciò che stava succedendo e in ciò che continuava a succedere io vedo che voi avete lavorato veramente davvero tanto e duramente per far sì che quella situazione comunque continuasse a stare in piedi avete fatto di tutto nel passato per mantenere la situazione solida stabile però da quello che vedo a un certo punto non riuscivate più a tenere in piedi sia la vostra persona per quello che voi siete per quello che voi volete davvero per quello che voi sentite dentro e sia quell'altra situazione questo è proprio il caso in cui magari era un lavoro che vi dava la possibilità di appunto avere una stabilità però voi non stavate bene perché era un lavoro che allo stesso tempo vi 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 snaturava vi faceva stare male e magari dovete passarci molte ore al giorno quindi per quelli di voi che hanno cambiato lavoro ad esempio si tratta di questo se invece si trattasse di una relazione forse voi siete persone che in realtà non stanno dentro tanto agli schemi però magari avete fatto sì che questa relazione potesse portarvi a riperpetrare uno schema che magari avete imparato in famiglia non lo so mi viene l'esempio di una persona che in realtà non crede nel matrimonio perché non crede che il matrimonio sia qualcosa di utile e positivo per la coppia però magari i suoi genitori si sono sposati quindi si è risposata anche questa persona in questo caso voi per portare appunto fede al progetto di famiglia o quello che vi è stato insegnato in famiglia in questo caso quello che avete fatto purtroppo va un po' contro ciò che siete perché è come se in qualche modo tradiste la vostra vera essenza la vostra vera essenza non vi farebbe mai non vi avrebbe mai fatto sposare adesso questo è un esempio non è che dovete essere tutti in questa condizione o in questa situazione o comunque per chi lo è questa è una cosa che può essere tranquillamente modificata tranquillamente superata infatti lo avete fatto e lo state facendo potrebbe anche essere semplicemente un fidanzamento potrebbe essere una relazione che poteva terminare una convivenza in generale anche se avete un figlio però io vedo che c'era qualcosa che andava cambiato per cui avete un po' dovuto scendere a compromessi con la vostra vera essenza perché vi stava bussando alla porta e vi stava dicendo allora che cosa vuoi fare vuoi scegliere me o vuoi scegliere quello che ti sembra essere giusto razionalmente quindi voi avete dovuto scegliere tra riunirvi con questa persona o lavoro o situazione oppure riunirvi con voi stessi riunirvi con la vostra vera essenza quello che è successo con questo fante di bastoni è che vi siete riuniti con la vostra vera essenza l'avete fatto in una maniera così istintuale così potente e immediata senza quasi neanche pensarci e pianificarlo che questo vi ha sconvolti e credo che abbia sconvolto anche le persone esterne quindi voi forse vi state un po' non lo so vi state quasi dando addosso per questo pensando di non aver fatto la cosa giusta per alcuni ovviamente non per tutti però per alcuni è così quindi se fosse così queste carte le vostre guide vi vogliono dire che in realtà voi avete semplicemente riunito quello che c'è dentro di voi vi siete riuniti con la vostra vera essenza abbiamo una carta di abbondanza per cui vi siete andati e state andando verso l'abbondanza la carta di nine of words e respect tra l'altro mi dice che c'è qualcosa dentro di voi che si sta era incazzato nero guardate questo gnomo o cos'è un folletto non lo so se qualcuno di voi lo sa me lo dica è comunque questo questo personaggio incazzato nero che vuole ritrovare insomma la sua la sua la sua dimensione quindi c'era una parte dentro di voi che diceva oh quindi dove mi hai lasciato sullo sfondo chi sono io il vostro daimon interiore credo che fosse comunque la vostra parte più più viva dove mi hai lasciato sullo sfondo per fare cosa per stare dentro a convenzioni sociali no 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 io non sono fatto così e infatti vi ha fatto praticamente capolino e vi ha vi ha fatti risvegliare dopo un lungo sonno quello che sento è che vi ha letteralmente catapultati questa figura con con un matto con un 6 di spade quindi vuol dire che proprio vi siete buttati e ve ne siete andati tra l'altro potreste averlo fatto un pochino di soppiatto per alcuni quindi potrebbe non essere stata una cosa così neanche consapevole a voi stessi proprio perché molti di voi potrebbero avere fatto qualcosa un po' diciamo non di nascosto alcuni si alcuni proprio non lo so hanno lasciato il marito con una lettera la moglie con una lettera sul letto dicendo io me ne vado addio altri adesso vabbè scherzo però ditemi se è così fatemi sapere e poi sono cose non proprio belle gioiose mi rendo conto però faceva ridere la situazione scusate in generale potreste non avere detto molto di ciò che avete fatto non aver dato molte spiegazioni alle altre persone l'avete fatto e basta perché vi sentivate di farlo perché vi sentivate bene a fare così e non dovete dare spiegazione a nessuno perché poi questa è la verità per cui avete fatto più che bene vi direbbero le vostre guide inoltre abbiamo il matto che arriva su questa altura quasi come se qua ci fosse un'alba quindi avete fatto qualcosa che poi in realtà vi ha portato una nuova alba per qualcosa di migliore per voi io vedo qua veramente veramente una notizia positiva voi siete sul percorso giusto tra l'altro questa carta dell'oracolo al numero 36 e mi parla del fatto che tra l'altro un altro 3 c'è mi parla del fatto che c'è veramente la possibilità in questa situazione di rivalutare ciò che avete sempre dato per scontato precedentemente come potesse essere la cosa giusta e rendervi conto che forse c'è qualcosa che vi può fare sentire in maniera migliore il 36 e il 3 di bastoni mi parlano del fatto che come il 3 c'è una via mediana quindi i 3 sono 3 3 cose quindi 1 2 3 c'è quella in mezzo che è la via mediana e quella giusta quindi voi state esplorando quella via lì state esplorando la via dell'equilibrio e questa nuova direzione vi porta a fare proprio questo spero davvero di esservi stata utile con questa lettura fatemi sapere se vi va con un commento e se vi va potete lasciarmi un cuoricino rosa così saprò che avete scelto il quarzo rosa noi ci vediamo molto presto in una prossima lettura e passo alla variante successiva ciao variante 2 tu hai scelto l'ametista eccola qui la mettiamo qua e andiamo a vedere che cosa deve dirti innanzitutto il tuo oracolo abbiamo la carta di The Divine Feminine Cosmic Womb ok allora qui c'è una porta che si apre verso qualcosa di nuovo per te che forse non hai sperimentato prima precedentemente e cioè un percorso animico differente da quello che sei stato solito solita a fare precedentemente ci sono due vie che abbiamo animicamente per evolverci quella maschile e quella femminile e tu forse hai sempre imparato le cose dalla via maschile quindi potresti avere semplicemente imparato dai tuoi errori ma potrebbe essere stato qualcosa di traumatico per alcune per alcuni casi invece in questa via femminile ti vedo essere più ponderato e più radicato in generale questa è la differenza quindi l'energia maschile la via maschile porta le persone a imbattersi in errori costantemente per sbattere la testa e svegliarsi no? svegliare quelle parti dell'anima che non sono ancora evolute mentre la via femminile è esattamente l'opposto quindi per te questa è letteralmente un qualcosa che ti fa ti ha aperto le porte questa questa nuova fase a un'evoluzione differente per la tua vita una evoluzione che ti porta finalmente a prendere le cose con calma se prima correvi adesso puoi andare con calma puoi ponderare puoi comprendere bene come vanno in che direzione vanno le tue necessità e soprattutto prenderti cura dei tuoi bisogni e prenderti cura di ciò che provi vediamo adesso di avere delle carte dei tarocchi per te variante numero 2 allora che cosa dobbiamo ascoltare per la variante numero 2 ok abbiamo l'asso di spade poi abbiamo la regina di spade al contrario la regina di bastone al contrario e il 10 di spade al contrario allora come ho detto precedentemente c'è veramente un cambiamento di rotta tu stai sviluppando l'energia della regina di spade e l'energia della regina di bastoni in questa nuova in questo nuovo capitolo della tua vita quindi se la tua domanda era sono sulla strada giusta mi sentirei di dirti un grande sì perché stai finalmente sviluppando quelle energie che prima ti erano forse non possibili da portare in campo forse perché avevi una visione non proprio corretta della realtà questa è proprio dovuta al tribolato percorso che stavi facendo e questa è una cosa che potrebbe averti anche seguito per molto tempo potresti avere portato avanti questo per molto ma molto tempo per cui potresti averlo preso come un'abitudine io invece vedo che con questo asso di spade in realtà c'è finalmente una possibilità di vedere le cose con più chiarezza con più obiettività con più anche razionalità per cui c'è questa 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 carta del dell'asso di spade mi dice che tu non solo sei sul percorso giusto ma sei su un percorso che ti consente di avere più lungimiranza anche sulle decisioni che prendi sul lungo termine quindi non sarai più semplicemente portato ad agire come ti senti nei momenti in cui ti senti ma sarai in grado di vedere i tuoi bisogni vedere i tuoi goal capire cosa cosa è giusto meglio per te prendere delle decisioni che puoi anche pianificare potrai anche pianificare sul lungo termine qualcosa che saranno i tuoi goal e che sarà qualcosa veramente che parla di te cosa che forse non ti è mai stata possibile precedentemente tra l'altro abbiamo il decidi spade al contrario quindi forse non è ancora chiuso con il passato o con l'energia precedente questo perché in quello che vedo potresti non essere ancora sicuro o sicura di aver imbroccato la strada giusta queste carte ti stanno dicendo che assolutamente sì e che i dubbi che hai su quello che hai lasciato indietro in realtà sono dei dubbi che non ti permettono di chiudere un ciclo passato che ormai è il tuo passato e che va lasciato da quello che vedo nel passato per poter dare finalmente vita a questo ma qua non stiamo parlando semplicemente della chiusura di un ciclo per qualcos'altro qua stiamo parlando di un'energia che è completamente cambiata e tu sei passato a un tipo di evoluzione differente questo lo dicevo già all'inizio della stesa in generale questa è una stesa che mi dice che tu non solo hai cambiato energia hai iniziato un nuovo ciclo ma è proprio stai completamente subendo una metamorfosi quello che porta finalmente questa questa metamorfosi è la libertà sotto tutti i punti di vista voglio chiedere per te una carta degli oracoli questa è veramente una bella energia quindi assolutamente la risposta sì 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 ancora sì tu sei sul percorso giusto sei più che mai sul percorso giusto forse anzi non sei mai stato o stata così tanto sul percorso giusto non sei mai stato o stata così tanto nella tua nel tuo potere nella tua direzione le carte mi vogliono dire proprio questo mi vogliono dire che forse non ha mai visto davvero quale poteva essere il potenziale della tua strada quindi quanto potessi effettivamente in realtà trovarti bene anche con un tipo diverso di evoluzione questo si tratta anche proprio di qua parliamo anche proprio di una un modo di essere un modo di essere che è diventato parte di te che è diventato parte integrante di come tu sei di come tu pensi di come tu agisci questo ti è accompagnato per tantissimo tempo però vedo che qua sta cambiando c'è io credo che sia una cosa voluta dall'alto voluta dalle tue dalle tue guide che non non ce la facevano più a vederti così in sofferenza anche perché potresti avere sofferto molto soprattutto per quanto riguarda delle problematiche che continuavano a riperpetrarsi allora vediamo adesso di avere una carta dei tarocchi per te variante 2 abbiamo la carta di protezione abbiamo un'altra carta e poi abbiamo la carta dello stang ok queste due carte mi pallano innanzitutto di protezione come dice questa carta qui tra l'altro questa è una bellissima immagine mi ricorda molto Glastonbury la divinità femminile l'antica madre la dea la madre terra mi ricorda molto queste vibes e onestamente credo che ci sia una vibe del genere che sta lavorando con te ci sia una guida che ha questo tipo di vibrazione energetica che ti sta proteggendo questo bambi questo questo animaletto che sta qua sotto è protetto dalle rocce quindi letteralmente qua ci sono delle guide degli spiriti che si stanno proteggendo ti hanno messo in una condizione finalmente in cui tu sei protetto quindi se arriva la tempesta non la prendi tutta addosso come magari ti succedeva prima ma finalmente ci sono delle protezioni ci sono dei pilastri di sostegno che sono intorno a te che sono letteralmente di roccia potrebbero essere queste guide potrebbero essere questi spiriti o potrebbero essere proprio persone che sono arrivate nella tua vita tramite questa nuova vibrazione che tu hai acquisito è una vibrazione di amore incondizionato di protezione di di voler amarsi e di proteggersi per cui le persone che hai intorno adesso rispecchiano proprio questo tra l'altro abbiamo il deserto intorno e sotto a questo animale c'è questa sorta di radura verde per cui se intorno a te prima c'era tutto il deserto hai finalmente trovato un'oasi verde nella quale fermarti riabbeverarti rifocillarti e appunto ritrovare un po' te stesso rirradicarti vorrei dire anche perché le persone che sono arrivate per la tua vita sembrano persone che sanno come come aiutarti come nutrirti sono persone che sono sono relazioni molto positive lo stang d'altra parte mi parla del fatto che tu stai per sbloccare delle opportunità incredibili che hanno a che fare con le tue doti psichiche questa tua energia che è stata forse intrappolata per molto tempo adesso finalmente si sta sbloccando grazie a questa gentilezza questa protezione questo amore che tu hai nei suoi stessi confronti che le persone che hai intorno stanno mostrando per te tu puoi finalmente avere via libera verso quelle che sono le opportunità che questa parte più spirituale ti vuole portare c'è la possibilità per te di avere con questo processo evolutivo differente nel femminile l'energia del femminile hai la possibilità di prenderti un attimo di relax calmarti e soprattutto meditare di entrare in contatto con te e vedo che arrivano molte opportunità proprio per questo motivo vediamo che carte abbiamo dei tarocchi abbiamo la carta del cavaliere di bastoni al contrario che altra carta abbiamo abbiamo la regina di coppia al contrario abbiamo delle altre carte che mi spieghino anche lo stang abbiamo il quattro di denari e poi abbiamo la regina di bastoni al contrario e di schiena ok queste sono come dicevo prima delle energie molto importanti da sbloccare la regina di bastoni che è già uscita prima nelle carte dei tarocchi precedenti è un'energia che forse tu non hai ancora sperimentato veramente ovvero non è semplicemente una persona carismatica molto bella e molto attraente la regina di bastoni è anche una regina che sente il potere del proprio fuoco interiore infatti la regina di bastoni è una carta di fuoco i bastoni sono il fuoco quindi questa regina è connessa non solo con il chakra della radice ma con tutti i chakra e ha trovato un equilibrio interiore stabile un qualcosa che gli permette di vibrare e di essere di portare ogni giorno nella sua vita questa vibrazione di di completezza di stabilità di solidità e soprattutto di sì carisma anche questo carisma ma un carisma dato dalle capacità da solidità dalla confidence e dato da quello che riesce a anche trasmettere agli altri interiormente quindi tu hai questa capacità hai questo questa energia di default hai questo potenziale forse non è ancora stato sviluppato vedo che per alcuni di voi prima potrebbe essere stata raggiunta questa sembrava di essere raggiunta questa sorta di capacità potenza della regina di bastoni ma in realtà poteva essere qualcosa di apparente quindi magari nell'aspetto fisico vi presentavate come una regina di bastoni però poi in realtà non riuscivate ad avere la solidità e la parte caratteriale che contraddistingue la regina di bastoni questo non significa che non si abbiano fragilità perché qua abbiamo un'energia femminile abbiamo la divine feminine come energia dell'oracolo principale per cui l'energia femminile è fragile ma trova la sua forza proprio nella sua fragilità per cui questa vostra fragilità si trasforma finalmente in una forza quando prima per esempio poteva essere vista diversamente e poteva essere vista come qualcosa da eliminare o qualcosa da da guarire quando in realtà la fragilità è semplicemente una caratteristica dell'energia femminile ed è giusto che sia così è giusto che rimanga così anche la volubilità anche la sensitività il il cambiare idea o queste cose il essere intuitivi essere sensibili essere sensitivi in generale sono tutte ed essere fragili sono tutte caratteristiche dell'energia femminile che in realtà non vi ha mai non vi ha mai chiesto di cambiare quindi queste carte arrivano per mostrarvi questo di mostrarvi forse di conoscere qual è la vera la vera natura della regina di bastoni che c'è in voi perché forse è stata vista diversamente da quello che in realtà è tra l'altro abbiamo l'attaccamento con il 4 di denari che mi dice che forse potreste essere stati attaccati troppo tempo a una versione di voi che non corrisponde davvero alla verità a quello che siete davvero per cui queste carte vi dicono che per andare verso le opportunità la cosa migliore che potete fare in assoluto è quella di accettare tutto ciò che arriva da dentro di voi tutto ciò che potete essere la carta del cavaliere di bastoni con la regina di coppia al contrario mi parlano del fatto che sotto tra l'altro la regina di spade mi parlano del fatto che state sviluppando questa energia della regina di spade quindi tagliare laddove non c'è una possibilità un'opportunità vera tagliare laddove c'è qualcuno che vuole interferire con tagliare laddove c'è qualcuno che se ne approfitta per così dire quindi questa regina di coppia al contrario mi dice che forse siete stati troppo disponibili in certe situazioni e anche in maniera impulsiva tendevate a essere disponibili anche quando magari non ce n'era bisogno quindi questa regina di spade è la regina che siete come la regina di bastoni anche la regina di spade per tenere fuori coloro che non sono in grado di onorare la vostra vera natura per cui questo è il messaggio vedo che tra l'altro state imparando a lasciare fuori l'impulsività che era proprio del percorso maschile per cui entrando in questa nuova energia femminile avete imparato più a scendere in profondità a radicarvi e a dare la possibilità anche all'energia femminile di fare la sua parte e soprattutto vedo che questa impulsività se ne andrà quindi sarete in grado di rimanere radicati nel momento in cui una persona si comporterà con voi in maniera abbastanza magari aggressiva voi sarete in grado di dire no sarete in grado di mettere delle barriere e lo vedo molto molto a breve quindi sì siete assolutamente sul percorso giusto variante 2 se vi state chiedendo questo assolutamente sì e anzi questo percorso vi porterà veramente ciò di cui avete bisogno e soprattutto la protezione e l'amore di cui avete bisogno soprattutto tante 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 opportunità io spero davvero di esservi stata utile con questa lettura se vi va fatemi sapere con un commento e noi ci vediamo molto presto in un prossimo video vi auguro una bellissima serata ciao ciao ciao